Gli indagati sono sei maggiorenni e cinque minorenni accusati di far parte di una banda chiamata Arab Zone 90-133. Sarebbero gli autori di aggressioni con bottiglie di vetro e bastoni avvenute nelle strade della Movida di Palermo tra il 7 gennaio e il 15 giugno. Il gruppo gestiva canali su tutti i social e sottolineava il proprio dominio sul territorio. La polizia ha controllato le immagini di vari sistemi di videosorveglianza e ha poi mostrato le fotografie dei presunti aggressori e le vittime che li hanno riconosciuti. Gli undici destinatari delle misure cautelari sono accusati di vari reati, tra cui lesioni aggravate, minacce, resistenza ad un agente della polizia e rapina aggravata. Dei sei indagati maggiorenni, cinque sono finiti in carcere, uno ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, due minorenni sono stati rinchiusi al carcere Malaspina e per altri tre è stato disposto il collocamento in comunità. Il branco, composto da ragazzi palermitani e stranieri, entrava in azione la sera, era compatto e dettava legge. In alcune giornate era particolarmente attivo, entrando in azione più volte nell'arco di poche ore.